buongiorno a tutti io mi chiamo massimo e sono il proprietario della trattoria la pesa noi siamo qui in zona san siro la via precesa e via giovanni fantoni dunque questa è una trattoria di tradizione milanese ma che strizza molto l'occhio a quello che è la sua clientela eterogenea tutto succede tra pranzo e cena con due tipologie di situazioni il pranzo è molto per uffici mentre la cena è dove si esprime il massimo della trattoria il concetto è quello di far sembrare la situazione molto più casalinga possibile così che la gente può sentirsi a suo agio questa è una trattoria di tradizione milanese da qui da sempre si cucinano piatti della tradizione quindi si può passare da un antipasto tipico della pesa con il salume del piacentino e lo gnocco fritto fino ad arrivare a un riso al salto di solito serviamo molto bene la cotoletta milanese che da noi è chiamata costoletta di vitello e il risotto con lo sobucco in gremolada un saluto agli amici di love resto e ricordando che siamo aperti 7 giorni di 7 vi aspettiamo alla pesa grazie grazie a tutti